Ciao, mi chiamo Miriam, ho quasi 42 anni e ho contattato Chiara perché durante il lockdown avevo preso un po' di chili che non mi facevano stare bene, nonostante io sia sempre stata una persona magra, avevo preso questi chili di troppo che proprio non ci stanno, non ci io sono abbastanza bassa e quindi non mi sentivo proprio bene. L'ho contattata e dopo una visita dove lei mi ha comunque fatto tutta una serie di domande, tutta una serie di indicazioni che mi sono servite per buttare giù velocemente questi chili in poco più di due mesi. Quindi diciamo che il mio obiettivo, che fondamentalmente all'inizio era quello di buttare giù questi chili, è stato raggiunto anche in maniera abbastanza veloce. Il mio obiettivo però ora è cambiato perché io grazie a questo per ora mini percorso ho intanto imparato a conoscere degli alimenti che mai nella vita. Oltre a conoscere degli alimenti nuovi sto imparando piano piano a entrare nella mentalità di mangiare bene. Ecco il mio obiettivo da ora in avanti, perché sì ok ho perso quei chili che proprio non ci stavano, però adesso il mio è un obiettivo più lungo, perché per me Chiara è il mio investimento per la vita. voglio continuare a mangiare bene, a prendere spunto da tutto quello che mi dirà lei, che leggerò nel gruppo perché è un gruppo veramente molto utile. Ecco ora che ho fatto il video ufficiale volevo dirvi che in realtà ho fatto questo video perché se non sbaglio per tutti coloro che avessero fatto una videotestimonianza Chiara avrebbe messo in palio una delle sue tazzine e quindi spero di vincere. Ciao!